Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Ombre silenziose nella notte passi felpati per non far rumore sono i ladri che entrano negli appartamenti di notte mentre tutti dormono uno shock dal quale a volte per riprendersi ci vogliono anche molti medici Lutto all'arresto del Carlino è morto improvvisamente a 57 anni il giornalista Paolo Angeletti un anno fa aveva subito un intervento al cuore Il comune di Fanno pubblica un bando per l'assegnazione di fondi alle famiglie in difficoltà economica La ciclabile Fanno Fenile sarà pronta nella primavera del prossimo anno lo annuncia il sindaco Seri insieme all'arrivo del settimo sessore e al rimpasto delle deriche Incredibile voragine si apre nel centro di Sant'Olbans la città inglese gemellata con Fanno Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Anche oggi come ieri apriamo il nostro telegiornale con i furti questa volta non sono i furti messi a segno in un esercizio commerciale ma dentro casa dentro a un appartamento sentite il racconto di questa signora Vive con il terrore questa famiglia dopo aver subito un furto mentre tutti dormivano I coniugi e i due loro figli nella notte tra lunedì e martedì scorsi non si sono accorti di nulla Solo al loro risveglio quando hanno notato che mancavano alcuni oggetti personali hanno capito che i ladri avevano preso di mira proprio il loro appartamento situato al primo piano di un condominio in via del ponte a San Lazzaro di Fano Ci mancavano i portafogli che erano sulla tavola all'entrata appena si entra mio figlio cercava i piccolini telefonini che l'aveva rimasta sul como nella mia camera quindi sono entrata anche in camera da letto perché l'ha lasciata sul como grande e quindi cercavano questi portafogli mamma toccate, mamma fate invece io non avevo toccato niente e ci siamo accorti che c'era questa veranda aperta e il lucchetto rotto e hanno detto ci sono entrati dentro stanotte I malviventi che hanno forzato la fessura della persiana una volta introdotte l'interno hanno completamente ignorato anche i computer portatili il loro obiettivo era quello di cercare soldi contanti magro il bottino trovato di circa 70 euro la signora Francesca al giorno successivo ha raccontato l'accaduto a quante più persone possibile con l'intento di mettere in guardia i vicini di casa ma a distanza di qualche giorno la paura ancora rimane il mio piccolino ha 12 anni a pomeriggio a volte restava da sola a casa e adesso non ci sta neanche ha paura mi fa entrare prima a me in casa e poi entra lui e siamo arrivati a un punto guarda io ho 26 anni che abito qui ho dormito anche con le chiavi dietro la porta abitavo a Calcinelli con le chiavi fuori alla porta è la prima volta che mi succede una cosa del genere non ci credevo ha avvisato le forze dell'ordine? sì alla mattina dopo siamo andati da carabinieri però non ha fatto nessuna denuncia perché dopo verso le 10 mio marito è andato a cercare nei cespugli giù perché anche i pantaloni si sono rubati con le chiavi dentro ha visto nei cespugli che c'era questo pantalone bagnato con tutti i portafogli sotto hanno rubato solo i soldi dentro il cellulare l'orologio e poi tutti i documenti ce l'hanno fatto ritrovare sotto casa ovviamente adesso spera che queste persone possano essere assicurate alla giustizia certo questo mi auguro perché se ne sente troppo ultimamente in giro e non possiamo stare in santa pace anche in casa il giornalista del resto del Carlino Paolo Angeletti è stato trovato morto in casa a Pesaro da alcuni colleghi aveva 57 anni e circa un anno fa si era sottoposto ad un intervento di bypass al cuore non vedendolo arrivare al lavoro questa mattina i colleghi sono andati a cercarlo nell'abitazione dove viveva da solo e lo hanno trovato esanime sul divano giornalista dal 1983 Angeletti aveva cominciato a lavorare alla redazione pesarese del Corriere Adriatico per poi passare al Carlino oltre che a Pesaro aveva lavorato nelle redazioni di Ascoli Piceno come capo servizio a Cesena, Rimini per poi tornare a Pesaro dove si occupava prevalentemente di cultura seguendo tra le altre cose il Rossini Opera Festival era anche componente del CDR del Carlino ai familiari e a tutti i colleghi del giornale le condoglianze della redazione di Fano TV le famiglie fanesi colpite dalla crisi economica potranno ottenere dei contributi nonostante una leggera ripresa economica sono ancora tante le famiglie in difficoltà lunedì prossimo il Comune di Fano pubblicherà un bando anticrisi per 100 di 133 mila euro a questo ne seguirà un altro di 30 mila la Giunta Comunale ha approvato la delibera che consente di erogare contributi previsti dal fondo anticrisi per aiutare i nuclei familiari in difficoltà economiche lunedì 5 ottobre verrà pubblicato il bando che consentirà di presentare domanda fino al 16 novembre prossimo la somma totale a disposizione è di 133 mila euro quest'anno è un fondo più importante perché noi abbiamo 80 mila euro e sono 50 del Comune di Fano più 30 mila dati dalla Fondazione Carifano 83 mila euro messo a disposizione da Aset per Tari e per il ciclo idrico quindi per le spese dell'acqua i beneficiari saranno tutti coloro che risiedono nel Comune di Fano da almeno un anno e con un valore della situazione economica equivalente non superiore a 10 mila euro potranno essere richiesti diversi interventi per l'area di sostegno all'abitazione sono previsti buoni spesa di 200 euro a nucleo familiare per il pagamento del canone di locazione per un periodo massimo di 3 mesi un importo non superiore a 500 euro per il pagamento delle utenze domestiche come luce e gas già scadute a partire da gennaio 2014 o comunque prossime alla scadenza è previsto un contributo fino ad un massimo di 150 euro sulle agevolazioni per bollette di acqua e rifiuti invece lo sgravio tariffario verrà calcolato sulla base di diverse fasce stabilite per le famiglie con valore ISEE non superiore a 5 mila euro è previsto uno sgravio di 600 euro per un ISEE compreso tra 5 mila 1 e 7 mila euro ne sono previsti 500 mentre se la fascia va dai 7 mila e 1 ai 10 mila lo sgravio complessivo sarà di 400 euro ma nonostante gli indicatori parlino di una piccola ripresa in alcuni settori ha detto l'assessore Barnesi si trascina ancora una situazione di disagio per molte persone l'amministrazione assicura e attenta ai beni di prima necessità alle politiche abitative e occupazionali tant'è che in accordo con la Caritas verranno messi a disposizione dei locali a Sant'Arcangelo per la distribuzione di vestiti usati il comune inoltre sta cercando appartamenti di pronta emergenza e quindi per aiutare chi subisce uno sfratto per questa emergenza si sta ristrutturando un locale di proprietà dell'Erap che necessitava di interventi di manutenzione partirà a Fano anche un progetto di co-housing cioè una coabitazione solidale per aiutare famiglie con minori e ragazze madri nelle prossime settimane poi verrà pubblicato un ulteriore bando di 30.000 euro con l'obiettivo di stabilire una graduatoria per i tirocini si tratta di attività lavorative retribuite in collaborazione con delle aziende del territorio consentiranno di offrire una forma diciamo di occupazione per un periodo sperando poi di poter stabilire anche con le aziende delle forme di patuire delle collaborazioni che consentano anche il protrarsi del periodo di lavoro le immagini che avete appena visto si riferivano alla conferenza stampa che come ogni venerdì mattina si tiene nell'ufficio del sindaco nella sala delle riunioni di giunta e proprio il sindaco Massimo Seri ha annunciato alcune novità intanto la prima che la prossima primavera verrà ultimata la pista ciclabile Fano Fenile poi ha parlato del settimo assessore e del rimpasto delle deleghe a ritorno della bella stagione i ciclisti potranno percorrere la pista a trave Fenile molto attesa dalla cittadinanza ad annunciarlo il primo cittadino Massimo Seri che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo sul cantiere in corso di realizzazione insieme all'assessore Marco Paolini alla consigliera comunale Laura Serra al direttore di lavori Fabio Bertulli tecnico della provincia e con alcuni rappresentanti del comitato per la pista ciclabile di Fenile lunedì 5 ottobre condizioni meteorologiche permettendo si riavvieranno i lavori sul tracciato eseguiti dal personale della provincia per un costo complessivo di 200.000 euro l'obiettivo è quello di svolgere la maggior parte degli interventi entro il mese di dicembre per poi eseguire alcuni completamenti come l'asfaltatura nella prossima primavera ormai siamo in dirittura d'arrivo e i tempi sono certi salvo quegli allungamenti che ci possono stare però non quei mesi come è venuto in passato e di collegamenti ciclabili per incentivare la mobilità sostenibile se ne occuperà in futuro anche l'architetto fanese Paola Stolf attualmente al comune di Pesaro ma che presto si andrà ad aggiungere componenti dell'ufficio del gabinetto del sindaco per quanto riguarda il settimo assessore il rimpasto di giunta il sindaco ha promesso di annunciare a giorni la decisione presa che assicura serie avverrà senza alcun costo aggiuntivo Sì, questa è una telenovela io capisco che bisogna fare polemica su tutto io ho sempre detto che le scelte che si è fatta in piena autonomia è funzionale ai bisogni che ho nell'amministrare comunque delle definizioni le faremo nella prossima settimana Conferma un rimpasto di deleghe? Per quello che riguarda i deleghe qualche accorgimento ci sarà sì Il sindaco poi ha annunciato battaglia sui trasferimenti pro capite dal governo ai comuni marchigiani secondo i dati del 2014 ad esempio il municipio di Pesaro ne ha ricevuti 120 quello di Urbino 161 il comune di Ancona 94 pro capite mentre Fano soltanto 63 una distinzione definita da serie ingiusta e iniqua ma perché sul bilancio fanese ha inciso per circa 4 milioni di euro in meno C'è un'ingiustizia che il comune di Fano subisce e questo non mi sta bene ho già parlato con alcuni sindaci che sono nella stessa condizione inizieremo a fare a richiamare l'attenzione su questo problema facendo magari se necessario anche azioni forti ma non siamo più disponibili ad accettare un'ingiustizia di questo tipo e ripeto mi fa specie che nessuno abbia mai posto in passato con forza abbiamo messo in essere iniziative per denunciare e per recuperare quel gap che ripeto è ingiustificabile Buone notizie poi sul dragaggio al porto di Fano perché oltre a quello da 25 mila metri cubi iniziato due settimane fa e l'intenzione già confermata di portarne via altri 24 mila tra sabbie e fanghe più inquinati il comune potrebbe rimuoverne ancora avvicinandosi alla Darsena ma è in attesa di una risposta da parte di ARPA che ha eseguito ulteriori esami se sono bravi e fanno questo sforzo noi prima che la draga parte potremmo aggiungere ai 25 mila altri 7 mila e 500 Al via la settimana dedicata al dialetto fanese te Silvana proprio in capisci te ne sai che vuol dire vesti d'Arcino a un uomo in che manca te tocca e non ti incorgi manca che c'è e beh Gilda quando investi in Arcino un che te tocca te tocca e manca ti incorgi di niente partirà il 3 ottobre alla Mediateca Montanari di Fanno alle 17.30 la settimana dedicata agli aletto fanese l'evento sostenuto dalla Proloco di Fanno Arena BCC e Fondazione Fanno Solidale nasce dalla volontà di valorizzare questo grande patrimonio aderendo al progetto dell'Unione delle Proloco d'Italia denominato Salva la tua lingua locale con la direzione artistica di Nicola Anselmi e la collaborazione di Ermanno Simoncelli per un'intera settimana il vernacolo prenderà vita in diversi locali della città dove si alterneranno teatranti attori scrittori registi e musicisti partiremo con una sorta non la voglio chiamare conferenza o dibattito perché mi piace farlo in maniera un po' così leggera se vogliamo quindi è una chiacchierata con Ermanno Simoncelli cultore del dialetto fanese dove metterà in mostra i tre vernacoli fanesi tre dialetti quindi il porto il centro e la campagna il porto leggerà poi delle letture sarà Cristina Giommi il centro Maria Grazia Mea e Luca Longarini per quanto riguarda la campagna da lunedì a giovedì prossimi si esiberanno in sketch e letture i ragazzi delle compagnie dialettali a seguire venerdì alle ore 19 al caffè del pasticcere un aperitivo con l'autore Elvio Grilli che per l'occasione riceverà un riconoscimento sabato alla stessa ora in piazza 20 settembre prevista la musica dialettale della Borghetti Bugaron Band e la presentazione del trailer degli Sbancati 2 con gli attori e il regista Erri Secchiaroli l'evento si concluderà domenica 11 a Tre Ponti insieme a tutte le compagnie dialettali settimana piena il dialetto è il protagonista qui non siamo protagonisti noi attori o artisti o registi ma il protagonista è il dialetto e lo spot diciamo così che mi viene che ho pensato è questo tra dialetto tra proloco e dialetto il connubio è perfetto vi aspettiamo che pesce del laurement con ben sette mesi d'anticipo più o meno il Comune di Fano presenterà il programma degli eventi del 2016 e a quanto pare non ci sarà la Fano dei Cesari anche le manifestazioni sono state al centro della conferenza stampa del sindaco Seri infatti entro un mese verrà presentato il programma definitivo degli eventi più importanti del 2015 ma per non ripetere l'errore commesso lo scorso anno in cui era stata inserita la Fano dei Cesari poi annullata a causa di un taglio improvviso di risorse da parte della regione ora verranno inseriti solo gli eventi sicuri consentendo a tutti gli operatori economici coinvolti di poter promuovere il territorio con materiale adeguato metteremo quelli certi è meglio non prevedere magari un evento e aggiungerlo in un secondo momento è chiaro che ci devono essere degli eventi caratterizzanti stiamo pensando anche di migliorare alcuni eventi come la festa del mare ma su quello avremo tempo per entrare la Fano dei Cesari però è a rischio anche nel prossimo anno spiega Seri bisognerà attendere le disponibilità di bilancio la Fano romana un elemento che caratterizza la nostra città quindi è una finestra che noi non possiamo chiudere il tema della Fano dei Cesari che non c'è ricordiamolo dal 2011 è una festa che piace che piace ai turisti piace alla gente che viene da fuori ma richiede risorse importanti perché quando si fanno eventi di questo tipo bisogna destinare anche le giuste adeguate risorse allora su quello si farà quando ci saranno le condizioni però ecco ci sarà un programma ricco importante con riferime sicuramente ci sarà il carneval jazz estivo quindi però avremo tempo per parlare questo è stato il primo incontro che io e il vice sindaco abbiamo avuto con la consulta è stato un incontro molto positivo di grande collaborazione che è ambizioso e guarda a un rilancio e ad una presenza forte della nostra città che ha tutti gli elementi e tutte le caratteristiche il ritorno sulla scena politica locale di bene comune l'associazione si presenta con due convegni torna con due convegni dedicati al welfare si pronuncia welfare ma leggi stato sociale e che può essere definito come uno stato che vuole garantire ad ogni suo cittadino come diritto politico e non come carità degli standard minimi di reddito di alimentazione di salute di abitazione e di educazione è pertanto un'organizzazione istituzionale politica economica che si pone come obiettivo la produzione di benessere di sicurezza sociale attraverso la politica secondo bene comune a Fano questo progetto non è mai nato nonostante in passato ci siano stati fiebili tentativi di metterlo in essere per rilanciare questo tema bene comune in collaborazione con l'associazione l'alveare ha posto in essere due incontri il primo il 3 ottobre e il secondo il 14 ottobre prossimi alle ore 16 e 30 nella sala del consiglio comunale di Fano in questo momento di crisi economica così lunga che ha messo così a dura prova le famiglie ci pare importante effettuare un'analisi di quelle che sono le politiche sociali attuate dalla nostra comunità nella nostra regione nel nostro comune e anche eventualmente riuscire a dare alcuni spunti per quelle che potrebbero essere iniziative più efficaci di tutela appunto della società della collettività ci sono quattro problemi nel welfare di Fano c'è il problema della regione Marche che lo deve rifinanziare a livello appunto collettivo c'è il problema dell'ambito con tutte le conseguenze che abbiamo visto in questi giorni c'è il problema di un comune che non ha mai creduto a fondo da tanti anni a questa parte da 16 anni a questa parte in questa esperienza quindi non vogliamo dare le colpe specifiche all'amministrazione attuale e c'è il problema di una fondazione che spesso è andata per conto suo questi quattro temi affronteremo nel primo dei convegni proponendo anche delle esperienze innovative e significative il 3 di ottobre sabato qui invitiamo veramente la cittadinanza di Fano e della valente limitrofe poi il 14 novembre faremo un altro punto con altri relatori tra cui anche dell'Università di Urbino per parlare di come si può lavorare insieme uniti per costruire un nuovo progetto di welfare il Rotary Club di Fano festeggia quest'anno il suo sessantesimo anniversario lo farà sabato 3 ottobre al Teatro della Fortuna alle ore 21 andrà in scena un concerto di beneficenza in favore di Adamo che si occupa di assistenza domiciliare gratuita a melati oncologici e del centro Ippico Itaca il costo del biglietto varia da 15 a 20 euro in base al settore e sarà possibile acquistarlo negli orari di apertura del botteghino del teatro adesso guardate queste immagini notte da incubo a St. Tolbans nella contea inglese a circa 35 chilometri a nord di Londra St. Tolbans è la città gemellata con Fano ormai da tantissimi anni un enorme buco nel manto stradale largo e profondo decine di metri si è aperto improvvisamente provocando un boato che ha terrorizzato gli abitanti della zona le autorità locali dopo aver fatto evacuare rapidamente dalle loro case centinaia di residenti hanno subito aperto un'inchiesta per accertare le cause e da questa voragine di St. Tolbans andiamo a questa immagine che ci è stata inviata l'altro giorno da un nostro reporter e si tratta di una buca gigante nei pressi del centro commerciale di Bellocchi di Fano è un'area privata il parcheggio privato del supermercato o comunque del centro commerciale e come vedete qualcuno ha ironizzato mettendosi anche in mano una canna da pesca insomma questa è la fotografia noi ci fermiamo qui grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e ci rivediamo domani arrivederci e ci fanno un'altra e ci rivediamo qui e ci rivediamo e ci rivediamo e ci rivediamo e ci rivediamo Autore dei sorrisi